Passiamo ora all'ultimo dei sistemi, quello delle analogie. Un sistema disarmante per la sua semplicità, ma altrettanto efficace. In cosa consiste? Certo, devo dire che se hanno qualcosa di magico, il sistema di comunicazione energetico non verbale, quello della prossemica cinesica paralinguisia digitale, insieme a quello simbolico dell'asta cerchio triangolo, devo dire che è veramente spettacolare questo terzo sistema di comunicazione, che è quello delle analogie. Quindi il termine analogico ci indica simile. Il simile naturalmente viene sempre per l'aspetto binario della mente umana evidenziato nel concetto del verso e dell'inverso della medesima cosa. Quindi, qualsiasi cosa si manifesta nel suo verso e il verso è come dovrebbero andare le cose, ma si presenta anche nel suo inverso, ossia come esattamente queste cose vanno. Ecco, c'è questa divergenza tra il verso e l'inverso, che è una distonia molto importante, perché ci permette come distonia poi di avere notevoli carichi energetici necessari per la sopravvivenza dell'inconscio, per poter creare le esigenze e i possibili appagamenti. Quindi assume un ruolo importante l'analogia. L'analogia del simile vuol dire, quindi, se io esprimo qualsiasi aggettivo, sostantivo o nome di qualsivoglia natura, è chiaro che di quel nome c'è anche il suo inverso. Che posso dire? Usando i colori, ciascuno di noi ha l'inverso e il verso di quel colore. Il verso è ciò che l'inconscio gradisce, l'inverso è quello che rifiuta. Quindi io dico giallo e magari non succede nulla, l'individuo, o meglio, l'inconscio dell'individuo non ha nessuna risposta. Poi dico azzurro e sull'azzurro viene avanti, quindi gradisce l'azzurro. Allora devo trovare qual è il colore invece che genera rifiuto. Potremmo definire giallo piuttosto che arancione, piuttosto che marrone o via dicendo. Uno di questi segnali, blu eccetera, avremo una risposta di rifiuto. Prendiamo in esame sia il colore dell'accettazione, sia il colore del rifiuto ed ecco che andremo a pilotare, è il caso di dire, poi il comportamento fenomenologico della persona attraverso appunto l'utilizzo, la citazione di questi colori. Ma non solo la citazione, anche l'utilizzo, nel senso che potrò benissimo presentare cose di quel colore qualora fosse il codice del no perché desidero che la persona non faccia una certa cosa oppure il colore contrario del sì se desidero che faccia quella cosa. Ora tutto questo può sembrare strano o quantomeno a limite qualora funzionante anche di tipo coercitivo ma dobbiamo pensare che potremo trovarci in condizione di educare il nostro figliolo allo studio e quindi dobbiamo sapere usare l'analogia giusta nel modo come poter indurre il nostro figliolo a studiare e evitare invece l'istintuale rifiuto che potrebbe avere nello studio. E non è perché è incapace a studiare ma semplicemente perché è stato opposto questo studio in un modo non positivo ma negativo attraverso questi segnali di comunicazione non pervada. L'analogia può essere espressa attraverso colori, attraverso città, sostantivi, aggettivi e via dicendo in cui è presente sempre il ruolo binario del verso e dell'inverso. Ecco, proprio in questo caso vediamo questa risposta della persona, abbiamo parlato di codice del sì e del no proprio nel caso del negoziato del sistema delle analogie e negli altri sistemi ci sono molte risposte e in questo c'è questa oscillazione del corpo, fondamentalmente la risposta è questa. Ecco, che cosa avviene esattamente? Sappiamo che è una risposta istintuale. Beh, diciamo che l'oscillazione del corpo è una delle prime basilari, devo dire, risposte non verbali dell'inconscio sia di accettazione e con lo spostamento del corpo in avanti, ondulatorio, in senso ondulatorio o indietro che invece è repulsivo e la risposta è del no. E quindi abbiamo questo codice del sì e del no. Però è anche vero che abbiamo tante altre risposte non verbali che sono ampiamente trattate nella decodificazione delle vari linguaggi non verbali. Dobbiamo assolutamente distinguere che abbiamo linguaggi non verbali di gradimento, di rifiuto e anche di carico tensionale. Che abbiamo già visto appunto negli esperimenti precedenti. Benissimo. E queste espressioni naturalmente ci permettono di identificare qual è lo stimolo tendente proprio a essere, appartenere al codice del sì e quale invece al codice del no. Certo, parlavamo di questo codice, questo dell'oscillazione nella posizione ortostatica, cioè fermi in piedi, proprio perché tra un po' lo vedremo anche utilizzato nell'esperimento. Ecco, anche per mettere a fuoco questa piccola un po' magia sembra, no? Questa oscillazione che viene spontanea, ecco, che non è governata dalla logica. A volte è quasi impercettibile, a volte è più marcata, a volte la persona sente proprio una spinta. Arriva lo stimolo, la domanda e la persona sente questa cosa. Ecco, questo lo si vede particolarmente proprio nel setting della regressione, quello che vedremo tra poco. Ecco, questa spinta è totalmente inconscia, non è governata assolutamente dalla logica, a meno che non ci sia una volontà, a meno che non ci sia una volontà, naturalmente. L'inconscio non può mentire, perché per mentire occorre una riflessione, quindi non è possibile. L'inconscio ha una caratteristica istintuale, in sostanza. Così istintuale da ricordare un po' il bambino, tanto che tu spesso tendi a definire in modo affettivo, no? Questo inconscio è io bambino, come il bambino non è immediato. L'inconscio viene anche denominato io bambino in senso affettivo, proprio in quanto istintuale, in quanto emotivo, in quanto presente in noi sin dalla nascita. Mentre l'istanza logica si forma nei propri recettori, l'inconscio appena nasciamo è già formato, anzi, veramente già risulta nel prenatale che già esistono segnali di gradimento e di rifiuto che vengono espressi dal neonato, anzi, in questo caso non è nato dal feto, praticamente ancora non nato. Bene, vediamo allora anche l'esperimento con questo terzo e ultimo sistema dei modelli della comunicazione analogica non verbale.